Ciao, sono Katia di Euroatria e in questo video vi presento le calzature da lavoro modello Expression di Kofra. Sono delle calzature realizzate con tecnologia all'avanguardia che migliorano il comfort, la praticità e il benessere del piede per tutta la giornata, molto apprezzate dalle donne per la leggerezza e la linea moderna. Vediamo nello specifico le caratteristiche della calzatura. Tomaya, senza cuciture e con protezione anti-abrasione sulla punta. Fodera, in sundry 100% poliestere tridimensionale antibatterica leggera resistente. Sottopiede, light foam in schiuma di poliuretano morbido leggerissima. Suola extra light, materiale espanso superleggero, flessibile e resistente. Ha un'eccellente risposta in situazioni climatiche avverse, con basse temperature, resistente all'acqua, ai raggi UV, al cloro e alla salsedine. Non assorbe liquidi e agenti chimici. Batti strada, con disegni e scanalature ben evidenziate super resistenti allo scivolamento sui liquidi, oli e pavimenti bagnati. Puntale, non metallico, in fibra di vetro resistente. Lamina antiperforazione in tessuto non tessuto antistatica leggera. Range di talie molto vasto, talie 36-39 calzata 10,5 Mondo Point, talie 40-48 calzata 11 Mondo Point. Questa linea è consigliata per i seguenti settori, logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, grande distribuzione, supermercati. Per maggiori informazioni su questo prodotto, cliccate il link in descrizione o contattateci, seguitici sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina delle notifiche, così da non perdere le prossime novità. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. A presto! A presto!